Londra un altro arbitraggio controverso per Anthony Taylor. Nella tempesta anche prima del calcio di Chelsea Liverpool. La grande partita si è conclusa con un punteggio di 11 tra le controversie. L'arbitro inglese lo aveva lasciato all'arena di Puskas a Budapest. Dove durante la finale della Europa League tra Roma e Siviglia, non aveva concesso un rigore per il fallo della mano di Fernando. Questa volta la supervisione è stata ripetuta al pronte via della Premier League.